Nel 1935 prese il via in Germania il progetto Lebensborn, sorgente di vita, voluto da Heiri Himmler, capo delle SS nazionalsocialiste, per aumentare il numero di tedeschi ariani. Il progetto prevedeva che uomini appartenenti al suo corpo paramilitare, selezionati in base alla purezza della razza, si accoppiassero con donne sane e di analogo sangue puro per generare bambini ariani al 100%, che sarebbero stati affidati a famiglie che li avrebbero allevati secondo i canoni imposti dal regime. Alle ragazze madri era garantito un assoluto anonimato, in modo che nessuno potesse risalire i genitori naturali dell'adottato. Oltre a ciò, veniva loro garantito, per tutto il periodo della gravidanza, un ambiente protetto, confortevole e un'assistenza di prim'ordine durante il parto. Esattamente quello che avviene oggi, con la cosiddetta maternità surrogata, con la sola variante che, al posto degli aitanti e razzialmente puri pretoriani delle SS, si preferisce il seme dell'acquirente, una coppia di omosessuali o lesbiche, ed eventualmente di qualche donatore selezionato, in base a caratteristiche non esclusivamente razziali. Alle madri, oggi, come ieri, provvedono apposite cliniche specializzate, in cui le gestanti possono seguire diete appositamente studiate, sottoporsi a controlli periodici per assicurare ai committenti la qualità del concepito e, infine, partorire in modo sicuro, senza che il bambino acquistato a caro prezzo subisca danni. Nel progetto Lebensborn, i neonati che dimostravano di non essere in possesso dei requisiti desiderati, venivano affidati alla National Socialistisch Volksforfart, o l'Organizzazione Nazionalsocialista, per il benessere del popolo. Oggi, in virtù dei progressi in campo medico-scientifico, che consentono accurate analisi prenatali, chi non soddisfa le aspettative degli acquirenti viene semplicemente abortito. Inizialmente il privilegio di dare figlia al Reich era riservato solo alle madri di Sanguariano, che di buon grado si sottoponevano alla inseminazione, allora non ancora artificiale, ma nel corso della guerra i nazisti, considerato l'insufficiente numero di volontari, non si fecero scrupolo nel sottrarre alle madri, soprattutto polacche, i figli che promettevano di venire su biondi e con gli occhi azzurri, mentre in altri paesi occupati vennero incluse nel progetto ragazze disperate che erano rimaste incinte dopo aver avuto relazioni con il nemico e per questo fortemente malviste dai connazionali. Oggi avvenne più o meno la stessa cosa, ad affittare il proprio utero sono pochissime volontari, mentre la maggior parte delle madri surrogate sono giovani europee o americane in difficoltà economica e magari con situazioni sociali problematiche sulle spalle, o donne di paesi poveri, come l'India, che mettono a rischio la propria vita per il sollazio di qualche ricco occidentale che non vuole rinunciare al proprio giocattolo. Come si vede, niente di nuovo sotto il sole. I casi di maternità surrogata li riscontriamo anche sporadicamente nell'antichità romana. L'utero in affitto, la maternità surrogata o come altro la vorranno chiamare per cercare di camuffarne l'odiosa luciferina sostanza, non è un'invenzione recente. Ci avevano già pensato nel secolo scorso, in larga scala, i nazisti.